Ancora una grande prestazione del Manfredonia Calcio 1932, questa vista al Miramare contro il Manfredonia FC nel derby del Golfo. I ragazzi di Mister Agnelli in pochi minuti hanno chiuso l'incontro, non concedendo quasi nulla agli avversari. Ma veniamo alla cronaca, al terzo minuto punizione per il Manfredonia, Labo Raggine mette al centro. All'interno interviene il portiere Ciufreda che si infortuna nell'azione ed il gioco viene sospeso per alcuni minuti. Al settimo Manfredonia vicino al gol, angolo battuto da Trotta, Sementino impatta di testa ma la palla termina di poco a lato alla sinistra di Ciufreda. Ottavo punizione per il Manfredonia 1932, palla in aria dove Sementino si fa trovare pronto per depositare la palla in rete e porta il Manfredonia Calcio in vantaggio. Undicesimo primo tiro dell'FC nella porta difesa da Ciribe. Tredicesimo minuto uscita difettosa del portiere dell'FC Ciufreda e Mastro Pasqua non ne approfitta. Quartodicesimo trotta vicino al gol, Ciufreda si supera per mettere fuori dal calcio d'angolo successivo e ora colpire di testa però debolmente la palla termina alta sulla traversa. Ventesimo ancora Trotta in piena aria di rigore che tira addosso al portiere ospite sul capovogimento di fronte e Malavisi che ha una palla buona per battere la rete ma non trova l'ospirale giusto per piazzarla. Ventisesimo punizione per il Manfredonia Calcio per ratteramento di Ola da parte di Spadaccino sulla palla alla borragine che piazza la palla alla destra di Ciufreda scavalcando la barriera e porta il Manfredonia Calcio sul 2 a 0. Trentaquattresimo gran tiro di grumo da fuori aria che si infila alla destra di un incerto Ciufreda e segna il 3 a 0. Trentasettesimo l'FC colpisce un palo con il numero 7 l'Oriola direttamente da calcio di punizione. Quarantunesimo si apre il caso della gara la borragine ha un calcio di punizione più o meno della stessa posizione dove aveva segnato il gol precedente. Tira a scavalcare la barriera e piazza la palla sotto la traversa secondo le nostre immagini ma per il giudice di gara la signora Montrone di Bari non è così. Per lei la palla ha scavalcato la traversa e si è infilata in un buco attraverso la rete quindi il gol non è neanche da annullare ma non è mai stato realizzato. Inutile le proteste dei bianco celesti Sipontini del Manfredonia Calcio che non riescono a concepire la decisione arbitrale e quindi il risultato resta sul 3 a 0. Nella ripresa è ancora protagonista il Manfredonia 1932 e al sesto è il momento del 4 a 0 ad opera di Trotta per siglare così il suo trentottesimo gol in questo campionato. Il difensore Sanè del FC perde palla che finisce tra i piedi di Trotta che da fuori aria piazza la palla alla sinistra di Ciufreda siglando il gol del quarto vantaggio bianco celeste. Dodicesimo Grumo ci riprova da fuori aria la palla termina a lato. Quattordicesimo minuto 1-2 la borragine Grumo sigla così il quinto a gol e la doppietta personale per il numero 9 bianco celeste. Ventitresimo l'occasione più importante della gara per l'FC per fare gol e sui piedi di Palumbo ma Ciribe nega la gioia del gol. La gara scivola così fino alla fine dopo 5 minuti di recupero e all'ultimo minuto proprio nello scadere è il momento del gol di Tristano che sigla quindi il 6 a 0 che è anche il risultato definitivo della gara. Ora in classifica il Manfredonia Calcio 1932 è sempre a un solo punto dalla United Sly che ieri ha battuto lo Sport Lucera per 3 a 0. E domenica prossima il Manfredonia Calcio 1932 sarà ospite del Nuova Daunia Foggia mentre l'FC ospiterà il Foggia Incedit e la capolista Sly invece farà visita al Virtus Molfetta. Grazie. Grazie.